La Lega trascina il centro-destra mentre il Movimento 5 Stelle subisce una frenata. Il centro-sinistra perde alcune città importanti come Catania ma conquista Brescia e va al ballottaggio in diversi grossi comuni del centro e l'esito della tornata elettorale amministrativa in oltre 700 comuni italiani e chi ha chiamato al voto oltre 6,5 milioni di connazionali. Bassa l'affluenza le urne del 62% circa, Imperia ritorna Scaiola, Sgarbi eletto sindaco di Sutri, a Pantelleria, Sindaco 5 Stelle, Imola per la prima volta al ballottaggio con due donne, al centro ballottaggi a Siena, Pise e Massa. Torna sul tema caldo di migranti il ministro dell'interno Salvini dopo le polemiche di ieri sulla nave Aquarius con 629 migranti a bordo e non autorizzata ad approdare in Italia, il che ha generato uno scontro con Malta. Oggi scrive su Twitter, leader del Carroccio, anche la nave sia Watch 3 di ONG tedesca e battente bandiera olandese e a largo delle coste libiche. In attesa di effettuare l'ennesimo carico di migranti da portare in Italia, l'Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire. Stavolta c'è chi dice no, hashtag chiudiamo i porti. Ieri una lettera urgente alle autorità maltesi, lo ricordiamo, è stata scritta dal ministro Salvini chiedendo di far approdare alla valletta la nave Aquarius con i migranti a bordo, essendo quello il porto più sicuro. Turbativa d'asta, falso e corruzione, falso ideologico, truffa e danni dello Stato sono le accuse per cui è scattato l'arresto nei confronti riappartenenti all'amministrazione penitenziaria di Bergamo e di alcuni imprenditori della provincia bergamasca. Le ordinanze eseguite dai carabinieri e dai militari della Guardia di Finanza di Bergamo riguardano l'ex direttore del carcere della città Lombardi e altri cinque indagati, il comandante degli agenti della polizia penitenziaria, un commissario, quest'ultimo distaccato nel carcere di Monza, il dirigente sanitario del carcere bergamasco e altri due imprenditori di Urgnano, nel bergamasco appunto, tutti posti agli arresti domiciliari. 1000 euro per ogni figlio d'età inferiore a 26 anni, questo è l'oggetto del bando numero 6 2018 pubblicato da Cassa Forense per aiutare i genitori single. Non c'è tempo da perdere se si vuole beneficiare del contributo, il bando scade alle 12 del 31 luglio 2018. I destinatari del bando sono tutti gli iscritti alla cassa o all'albo con procedimento di iscrizione alla cassa in corso, non sospesi né cancellati dall'albo stesso. Per partecipare al bando ed essere ammessi in gradatorio è necessario essere una famiglia genitore unico, avere nello stato di famiglia almeno un figlio di età inferiore a 26 anni, a proprio totale ed esclusivo carico economico, essere in regola con le comunicazioni reddituali alla cassa.